Gaglianico ha dato il via proprio in questi giorni al progetto sperimentale relativo all'attività di prevenzione e lotta contro le zanzare, la cui presenza è tipica degli ambienti urbani. L'area selezionata è quella che si trova nei pressi della scuola elementare, allo scopo di mettere in sicurezza un ambiente vulnerabile sotto questo aspetto, soprattutto durante il periodo estivo, quando ospita diverse attività, sia di interesse pubblico che legate alla scuola stessa. Il coinvolgimento degli alunni rappresenta una fase fondamentale del progetto, sottolinea l'assessore all'ambiente Luca Mazzali, in quanto consente di svolgere una attività importante di educazione sanitaria, ottenendo un effetto volano che permette di far arrivare le informazioni anche alle famiglie. E così, grazie alla collaborazione con Davide Bruciaferri, esperto del settore, è stato realizzato un incontro con le classi quarta e quinta, durante il quale è stata spiegata in aula una fase teorica dalla biologia delle zanzare alle ambienti di sviluppo, alle problematiche dovute alla loro presenza e una fase pratica all'aperto, consistente nella ricerca e nel monitoraggio di siti di sviluppo larvale e di situazioni di criticità. Nel mese di aprile, dunque, si aprirà questa seconda fase che dovrà coinvolgere anche le famiglie residenti vicino alle scuole elementari, con l'intento di spiegare anche loro il progetto sperimentale e proporre un eventuale patto di collaborazione attiva con tutti i cittadini per attivare in modo più capillare questa campagna di lotta alle zanzare.